Sottotitoli sì o sottotitoli no? Questo è il problema. Risolviamo l'enigma. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Oggi parliamo di un argomento molto dibattuto ma anche molto importante, e cioè quando guardo un film in italiano. È meglio attivare o non attivare i sottotitoli? Questa è una domanda che molti studenti di italiano o di qualsiasi altra lingua si chiedono. Proverò a darti una risposta chiara e precisa in questo video, ma prima ho due cose da dirti. Numero uno, non dimenticarti di iscriverti al mio canale YouTube. Clicca nel bottone iscriviti o subscribe che trovi qui sotto al video. Così potrai ricevere tutte le mie lezioni e tutti i miei video sulla lingua e la cultura italiana. La seconda cosa è che ho già fatto un video sulla listening. Ho fatto un video dove spiego come migliorare le capacità di comprensione in italiano, e lo trovi a questo link che vedi qua sopra. Ok? Ma cominciamo. L'argomento di oggi è sottotitoli sì o sottotitoli no? Bene, i sottotitoli sono uno strumento molto importante quando si sta imparando una lingua, ma come tutte le cose ha dei vantaggi e degli svantaggi. Cominciamo dai vantaggi. Il primo vantaggio di attivare i sottotitoli è sicuramente che hai un completo controllo sulla pronuncia. Quindi puoi leggere le parole che gli attori o i personaggi dicono e vedere come si pronunciano. Quindi puoi assolutamente controllare la pronuncia. Il secondo vantaggio è che puoi incrementare il tuo vocabolario, perché quando guardi un film in italiano con i sottotitoli e noti una parola che non conosci, puoi stoppare il film, controllare sul dizionario la parola nuova e scriverla sul tuo quaderno o sul tuo notebook. Quindi i sottotitoli sono molto utili in questo caso per incrementare il vocabolario e per controllare la pronuncia. Vediamo ora quali sono gli svantaggi di avere i sottotitoli. Il primo è che è molto stancante per il cervello. Può anche essere un esercizio di flessibilità per il tuo cervello, ma è anche molto stancante, perché devi guardare le immagini e i fotogrammi e controllare anche le parole nei sottotitoli. Quindi può essere un'operazione difficile se la fai per un lungo periodo di tempo, come le due ore o le tre ore di un film. Il secondo svantaggio è che ti perdi una parte importante del film, cioè perdi le immagini e i fotogrammi, che trasmettono una parte importante del significato di quello che stai guardando, perché se sei concentrato sui sottotitoli non puoi anche guardare le immagini. Il terzo svantaggio, che è legato al secondo, è che guardando e focalizzandoti sui sottotitoli perdi la gestualità e le espressioni facciali dei personaggi o degli attori del film. Anche questo sono un veicolo molto importante di significato. Quindi vedete, i sottotitoli hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Ma allora la vostra domanda sarà, ok, quindi attivo o non attivo i sottotitoli? La risposta è dipende. Dipende dal tuo obiettivo. Se il tuo obiettivo è esercitare la comprehension, le listening skills, ma goderti e guardare un film in relax e tranquillità, puoi guardare il film senza i sottotitoli. Così puoi guardare tranquillamente il film e allenare ed esercitare la tua comprensione. Ma se il tuo obiettivo è il vocabolario e esercitare molto le capacità di comprensione, allora ti consiglio di attivare i sottotitoli. Il mio consiglio, che ho dato anche nell'altro video sulla listening, è quello di cominciare con dei video brevi di tre o quattro minuti con i sottotitoli, in modo che il cervello non si stanchi molto. Quindi iniziare con dei video brevi e poi aumentare e arrivare poi a guardare un film. Quindi la scelta tra sottotitoli sì e sottotitoli no dipende dal tuo obiettivo. Vuoi guardare un film in relax, in italiano? Prova senza sottotitoli. Vuoi focalizzarti molto sul vocabolario e sulla comprensione? Allora attiva i sottotitoli. Dipende ovviamente anche dal tuo livello di italiano. Se hai un livello intermedio, puoi provare a guardare un film senza sottotitoli. Ma se hai un livello elementare e sei un principiante, ti consiglio di attivare i sottotitoli. Questo ti permette così di incrementare il tuo vocabolario. Quindi queste sono le mie risposte. Tu cosa ne pensi? Qual è la tua esperienza? Attivi o non attivi i sottotitoli quando guardi un film in italiano? Io ti leggo nei commenti qui sotto e mi raccomando non dimenticarti di iscriverti al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!